Eccolo qui, sì! Fantastico! Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Brawl Stars! E' uscito finalmente il nuovo fantastico brawler! E' arrivato il grandissimo giorno in cui dobbiamo cercare di trovare questo nuovo fantastico brawler chiamato Rosa! Un nuovo brawler raro, un pugile, un fantastico brawler che a quanto pare attacca come il primo e diventa potentissimo! Non vedo l'ora di trovarlo, infatti cercheremo adesso subito di trovarlo in qualche cesta Se non riusciamo a trovarlo nelle ceste andremo a shopparlo nel negozio con le gemme gratuite Infatti andremo a shopparlo con le gemme gratuite che abbiamo trovato nelle ceste Perché molti quando dico che andiamo a shoppare pensano che andremo a shoppare con soldi veri le gemme No 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 no, questa è una serie no jamming, quindi non vi preoccupate ma io non andrò mai a spendere soldi veri in questo account Infatti intendo che spenderemo le gemme che abbiamo trovato in tutte le casse gratuite nei precedenti episodi E compreremo Rosa che a quanto pare costa semplicemente 19 gemme, costa veramente veramente pochissimo Ed è un brawler nuovo quindi non vedo l'ora di giocarlo Spero che questo video vi piaccia, raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo video Iscrivetevi al canale premendo il tasto di iscriviti così supportate questa bellissima serie di Brawl Stars Perché dobbiamo cercare di trovare questo benedetto brawler leggendario E niente, adesso andiamo ad aprirci un paio di casse e vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare Vediamo un po', dobbiamo subito trovare questo nuovo brawler Vediamo se abbiamo fortuna in queste piccole casse Appena troviamo il brawler ci fermiamo perché vorrei tenere le casse per qualcos'altro Mamma mia non ci credo, non stiamo trovando subito il brawler Eppure è un brawler rare, dovrei trovare in due secondi e dovrei trovarlo Uh, 5 gemme, fantastico Queste mi potrebbero servire, sì sì che mi potrebbero servire Abbiamo aperto già tutte le casse e non abbiamo trovato neanche il brawler Ma io non ci credo, 3 gemme? Oh ok, abbiamo trovato 3 gemme e un ticket Però non abbiamo trovato il nuovo brawler? Non ci posso credere E niente, andiamo subito a shopparlo Shoppiamo questo bellissimo brawler chiamato rosa per 19 gemme Anche perché è scontato e quindi ci guadagniamo tantissimo Vediamo, eccolo qui, sì! Fantastico! Abbiamo shoppato rosa il brawler raro Perfetto e quindi andremo subito ad utilizzare questo fantastico brawler Che è appena uscito proprio oggi E ci facciamo un paio di sopravvivenze fantastiche Perché non vedo l'ora di farci delle belle vittorie Adesso andiamo a farci un bel paio di sopravvivenze E vediamo un po' che cosa riusciamo a fare La prima sopravvivenza in video di rosa Vediamo un po' se riusciamo a farci una bella partita interessante Allora, noi con la ulti possiamo diventare veramente potentissima Adesso tipo incontreremo semplicemente tantissimi rosa E non so che cosa riusciremo a fare Allora, vediamo di attaccare subito questa bella cassa E dipendaci di tanti bellissimi powerups Mamma mia, qua c'è tipo una rosa chiamata Israel Che è proprio da questa parte Oh, ciao! Guarda qua! Guarda qui! L'abbiamo messa in mezzo! L'abbiamo messa in mezzo! Sìììì! Guardate, guardate Diventiamo, diventiamo un po' potentissimi E vediamo un po' che cosa riusciamo a fare Ci facciamo seguire Sì, ci facciamo seguire Adesso ci ricarichiamo un po' la vita E vediamo un po' che cosa riusciamo a fare Cosa? Sta usando di nuovo la ulti Pazzesco Eeeh... Ciao Guarda, guarda, guarda Aiuto, 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 aiuto Aiuto! Non mi attaccare, non mi attaccare Non mi attaccare, non mi attaccare Per favore, per favore Sì, perfetto Perfetto Mamma mia, l'abbiamo distrutta Ok, ho capito che come funziona questa ulti Perfetto Avete visto? Quando abbiamo tipo la ulti Usiamo la ulti Diventiamo molto più potenti Abbiamo molta più vita Molta più armatura Guardate qua Con 5 power ups Abbiamo 7000 HP Vi immaginate una rosa con 28 o 30 power ups Sarebbe veramente una cosa mostruosa Ma non ho capito Questa partita è piena solo di tanti rosa Non ho capito Veramente? Eeeh, vabbè 40 HP Che fortuna che ha avuto quello Cerchiamo di trovare tipo l'ultimo Ma secondo me l'ultimo si trova proprio a sinistra Sì, eccoli qua che stanno combattendo Guardali, guardali Sì Fantastico Aggiungiamoci anche noi Aggiungiamoci anche noi E cerchiamo di uccidere questa Mamma mia Vedete quanto è resistente Quanto si è resistente Quando si sta utilizzando rosa con la ulti Diventa una cosa veramente Veramente mostruosa Perfetto Ho usato subito la ulti Perché sapevo che avrebbe usato anche lei la ulti E quindi cerco subito di seguirla Guardate Con i puni il problema La cosa bella è che la ulti si ricarica di continuo Quindi si continua a spammare la ulti di continuo E si danno veramente tantissime botte Spero che questa prima partita vi sia piaciuta Perché abbiamo fatto una partita alla grande Una partita fantastica con Rosa Mamma mia, guardate qua che figata Se vi piacciono i video di Brawl Stars Vi ricordo di lasciare un bel mi piace E di iscrivervi al canale Premendo il tasto Rossa iscriviti Seconda sopravvivenza Cerchiamo di farci un'altra bellissima partita con Rosa Il problema di Rosa Sapete qual è semplicemente l'inizio In cui l'inizio è veramente 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 lentissimo Infatti ci si mette veramente tantissimo ad aprire la prima cassa Però secondo me potenziando Rosa I primi puni diventeranno veramente così potenti Che diventerà un personaggio forte Ma che cosa fa Yasmin? Oh mio Dio Yasmin Oddio povera Yasmin Povera Yasmin che ha pochissima vita Non so cosa sta facendo Sta scappando da quell'altra Rosa Però non è possibile che tutte le partite siano piene di Rosa Voglio divertirmi con altri Brawler anche io Allora seguiamo questi due Che stanno stanno combattendo con le ulti E quindi voglio vedere cosa riesco a fare E ciao Questa qua non si fa Cioè scappa di continuo Piero si fa Scappa di continuo E non è che riusciamo a fare qualcosa Ma sono tutti Rosa Ma perché mi sta mettendo nelle partite con tutti Rosa Ma non è giusto Non è divertente così Non è divertente Facciamo una cosa Andiamo da Piero che è stato appena No appena ucciso qualcun altro Ok Questi due si stanno seguendo Perfetto Adesso Piero Deve per forza farsi attaccare Veloce 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 Sì L'abbiamo ucciso L'abbiamo ucciso Però abbiamo sprecato Diciamo la ulti Perché non lo so Potevo non sprecarla Uh Vlad Vlad c'è semplicemente un power up Anche se tipo usa la ulti adesso Forse riusciamo a fare qualcosa Sì perché Uso anche io adesso la ulti E divento un po' più resistente Però scappo via due secondi Perché ho sprecato la ulti Dovevo usarla molto molto meglio Vediamo se qua c'è tipo quella rosa Sì fantastico Ricarichiamoci adesso la ulti e scappiamo via Ricaricando la vita Poi la ulti adesso la utilizzeremo Per andare in quel miscuglio E vedere cosa riusciamo a fare Guarda che voleva fare team con l'altro Lo schifoso Voleva fare team con l'altro Per uccidere me Non ci posso credere Non ci posso credere Oh cacchio Non ho cliccato sulla ulti Ho sbagliato Ho sbagliato Oh questa qua non c'è più la ulti Non riuscivo a usare A ricaricare la ulti Non ci credo L'abbiamo ucciso così facilmente Con la mia ulti L'abbiamo shottata Perché non aveva tanta armatura E tanta vita E quindi non era così tanto resistente Terza sopravvivenza Qui con rosa Scrivetemi nei commenti Se vi sta piacendo Questo fantastico brawler A me sta piacendo veramente 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 tantissimo Infatti trovo che sia un brawler Veramente tanto divertente da utilizzare Poi quando ci saranno le partite Dove non ci sono tipo gli altri Rosa Forse sarà ancora più divertente da utilizzare Perché gli altri tipo li shotteremo Gli altri brawlers verranno shottati Subito 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 Però avete visto che tipo queste casse Le abbiamo aperte subito 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 Fantastico Adesso andiamo subito qui a sinistra E apriamo altre belle casse Che ci potenziamo Non vedo l'ora di potenziare rosa E di farla arrivare qualche A livello 5 A livello 6 perché sarà una bomba bestiale Anche se è un brawler raro Sembra essere veramente un brawler fortissimo E poi sapete Ogni volta che aggiungo un nuovo brawler È sempre una figata pazzesca giocare a Brawl Stars Perché è la cosa più divertente Dovrebbero aggiungere sempre più brawlers Anche velocemente Perché è la cosa che rende il gioco vivo E quindi non muore mai come Fortnite Perché continuano ad uscire aggiornamenti E quindi è una cosa fantastica Allora Ghost Spinks Potremmo ucciderlo Ma c'ha la ulti Quindi andiamo da questo Che si sta nascondendo Allora questi qua Non c'hanno nessuno C'ha questi qua dei power ups Perfetto Questa qua non ho avuto neanche il tempo Di ricaricare la ulti Bene così Questa qua sta sicuramente Mi sta seguendo Io continuo così Perché tanto ho tanti power ups Comunque anche se Loro usano le ulti E non muoiono subito Io comunque ho sempre tanti power ups E quindi faccio tanti danni Con i miei pugni Sì Guardate qua Perfetto Adesso serviamo questa La uccidiamo Potevo anche non usare la ulti Sinceramente Infatti è stato semplicemente Uno spreco È stato uno spreco Questo qua non c'ha neanche la ulti Quindi cosa vuole fare Vuole fare il team Questo piccolino Vuole fare il team Non facciamo team Wow Ok questo mi ha shottato Questo mi ha shottato E mi ha fatto veramente malissimo Avete visto Anche se quello lì aveva 5 power ups Ma comunque shottato Oh ma la finisci Non voglio fare team con te Hai capito Non voglio fare team con te Basta Muori subito E che cacchio Questi qua Vogliono sempre fare team Nelle singole sopravvivenze Non si può fare team Lo vuoi capire Sì o no Non si può fare team E il cacchio Vediamo Vediamo cosa riusciamo a fare No lo sapevo Mi sono Ho sbagliato Dovevo spostarmi in basso Invece che a sinistra Infatti spostandomi a sinistra Mi sono fatto colpire Da ghost pinks Non ho avuto neanche il tempo Di cliccare sulla ulti Anzi l'avevo cliccata Che ero già morto Comunque Siamo arrivati terzi E siamo già tipo al grado Al terzo grado E wow Stiamo facendo delle bellissime partite Anche se sono un po' noiose Perché troviamo solo Dei rosa Ma è normale Il giorno in cui è uscito Il nuovo brawler Quindi troveremo solo questo Per tutto il giorno Quarta sopravvivenza Cerchiamo di farci una bella partita Interessante Allora Qui ci sono un bel paio di powerups No Un bel paio di casse Che possiamo aprirci No C'è semplicemente una cassa Stavo guardando tipo il centro Ma il centro è un bel po' troppo lontano Quindi continuo Seguo tipo tutti gli angoli Tutti i burdi E vedo un po' di sopravvivere Vicino alla tempesta Voglio fare più powerups possibili Perché qua Tipo è un casino Adesso Guarda qua Guarda qua Guarda qua Questo qua Tipo si è distratto Perché guardava tipo l'altro Sicuro Perfetto Adesso scappiamo due secondi Abbiamo anche la ulti Quindi noi scappiamo Non combattiamo Non sprechiamo il nostro tempo Con una che ha tipo due powerups Andiamo tipo a destra E vediamo un po' di fare Una bella Bella sopravvivenza Mamma mia Mi stava venendo il rutto Ho bloccato il rutto Però mi si è modificata la voce Aiuto Volevo ruttare Io volevo ruttare Non ce l'ho fatta Allora adesso Cerchiamo di prendere Oh mio dio la bestia No Stavo per dire Prendiamo questa Non ci credo C'è un C'è Tara Non ci credo C'è un brawler Diverso Sì c'è un brawler diverso Ma basta Non voglio fare team E che cacchio Questi qua pro Dopo annoiano Dopo un po' E che cacchio E ciao Tara comunque mi uccide Tara mi uccide Che cacchio Finalmente un nuovo brawler diverso Fantastico Si vabbè la bestia Però la bestia Ho capito che sei potente Però E che cacchio Comunque Tara mi sembra Che sia tipo Incastata in questo punto Ma che cosa fa Cosa fa Voleva far tipo tutto il giro Voleva fare tutto il giro Non ho capito Che cosa voleva fare Però Era tipo Messa Alle spaglie Nel muro Infatti non poteva muoversi Da quella posizione Ma si vabbè La bestia Comunque la bestia Cosa facciamo contro la bestia E' potentissima Devo continuare ad uccidere Tutti gli altri Tutti gli altri rosa E sperare di riuscire a fare Di riuscire a fare Abbastanza power ups Per poi uccidere la bestia Mamma mia La bestia Sta comunque spaccando Veramente tutto Sta spaccando Noi attacchiamo questo Che nel frattempo Uccidiamo E poi attacchiamo anche questo Abbiamo ucciso tutti E adesso voglio vedere Se escoci della bestia Ma la bestia è potentissima Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio E si Vabbè Ma quanta vita armatura C'ha E' impossibile Vedete Non ce l'ho fatta Anche se lei non mi colpiva Era impossibile da fermare Comunque abbiamo fatto Sette trofei E siamo arrivati Secondi Ultima sopravvivenza E finalmente possiamo concludere Questo fantastico video Scrivetemi nei commenti Che cosa avete pensato Di questo nuovo fantastico brawler Che hanno aggiunto A me sembra veramente Tanto 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 interessante Mamma mia Dovevo fermarmi A prendere quelle tre casse Invece di stare in questa Cassa singola E che cacchio Veloce 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 Andiamo subito a prenderla Se ce la facciamo Sì Ce la facciamo Perfetto Mamma mia Dai che diventiamo potentissimi Con questi tre power ups in più Sì Quattro power ups Perfetto Adesso attacchiamo subito Questo brawler Guardalo Non mi ha neanche attaccato Fantastico Uh C'è tipo un altro brawler qui Nei dintorni Perfetto così Perfetto così Guardate qua C'è tipo carle E c'è un altro carle Qui in basso Possiamo fare una strage Forse sì Forse no Avviciniamoci Avviciniamoci Che forse possiamo fare una strage Vuole fare team con l'altro Non ci credo Questi due carle Volevano fare team Facciamo una cosa Seguiamo questo carle Sì A parte che è un casino A parte che se adesso carle Usa l'ulti Mi usa l'ulti addosso Sapete che faccio Divento Tyson Mike Tyson E divento invincibile Quindi posso ucciderlo in due secondi Sapete che faccio Attacco questa rosa Perché secondo me Questa rosa possiamo ucciderla Mamma mia Guardala Guardala Si è andato a incastrare Contro l'altro carle Andiamo Guardate qua Questi qua sono tutti incastrati Sono tutti Sono tutti incastrati Ma che cosa sta facendo Quel piccolo Ma che cosa ha fatto Cosa ha fatto Guardate Guardate cosa faccio Uso l'ulti Per diventare invincibile Nella tempesta E poi mi prendo Il power up Perfetto Abbiamo tipo 8 power ups Come la best di prima Quindi voglio farvi Una bella partita interessante Ci sono ancora 5 Cosi Vediamo Dai che ce la facciamo Ad uccidere questa rosa Ce la facciamo Si Sciottiamo tantissimo Sciottiamo tantissimo Non le abbiamo dato neanche Il tempo di usare l'ulti Siamo potentissimi Questi due stanno facendo team Questo schifoso Fa team di continuo Con tutti Non ho capito Ah non mi puoi fare niente Sono una rosa Super super invincibile Guardate Anche se lei usa l'ulti Non riesce a resistere Ai miei pugni Perché sono troppo 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 potente E adesso Andiamo addosso a questa rosa E scusate A questo carle Che si va a suicidare Dove va Dove va Andiamo a prenderlo Andiamo a prenderlo Dove vai Ma dove vai Non ci credo Si è andato a suicidare Mamma mia Questa rosa È veramente Una cosa bestiale Spero che questo video Di brunestar Se vi sia piaciuto Raggiungiamo i 3000 Mi piace Per un prossimo video Iscrivetevi al canale Premendo il tasto rosso Iscriviti E ci vediamo A un prossimo episodio Ciao ciao Ciao